Il suo must e il suo must e il suo must e il suo must. Immagino con lo scarico un po' più aperto chi deve essere una limitata, però a me piace così perché adesso sentirai come è. Apre bene? Sì, ma poi è bello, è anche bella, perché è anche bella, perché è anche bella, che resta cattiva, però è confortevole acusticamente. Beh, dovendo anche viaggiarci. Eh, beh, è quasi una macchina proprio, cioè, andiamo in turismo. Aspettiamo una ripresa a tre. Manca Marco! Ok. Ma viene subito? O andiamo? Io volevo fare il giro con lui. C'è Barbara, suca. Eh, non ti fidi, eh? Ebbiamo l'ipercaldo. Aspetta, guarda. Allora ti è la partenza. Accendiamo la radio? No. Ma dov'è? Ma si ricorda che deve venire a fare il giro? Allora. Allora. Sì, sì, sì. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. C'è una curvetta un po' bastarda, con sotto il tornantino ancora di più. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Un po' di questa chiude tantissimo. Hai capito quella che dico? Sì. Guarda, secondo me è una delle peggiori. Si è un po' di questa chiude. Si è un po' di questa chiude. Oh, c'è un po' di questa chiude. Oh, c'è un po' di questa chiude. E' 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 un po' di questa chiude. qui si può allargare. E' un po' di questa qui si può allargare. E' brava, lasciala, lasciala, perchè è poi l'idea che allarga molto qua. Eh si è bravo, ma la conosce, la paglia. E' sempre una parola. E siamo a 12 km. Esatto. Un po' avanti ancora c'è una curva che si può rallentare senza frenare troppo. Dopo di questa c'è una stretta. Dopo di questo sbaglio di qui si sale e si arriva al primo carousel. E' un po' avanti. Grazie. Io la prendo dentro da subito praticamente. Si, lui ha visto che facendo così riesce a stare dentro. Se l'ho fatta fuori. Ed esco un po' prima. Sì. Infatti la faccio sui 90 a 100 km. Io non l'ho visto. E' sui 90 a 100 km. E' un po' avanti. E' un po' avanti. E' un po' avanti. Cazzo, sto la terza. Mincazio, sto la terza. Allora, ci sono delle s un po' strette. E poi c'è la parte davanti al pubblico. E' un po' che ci sono. E' un po' più avanti. E' un po' più avanti. Poi se ne ho capito da tipo lo che sempre. Si, per la Iona. E poi qui bisogna frenare perché è discesa. Qua bisogna rammettare anche qui perché ti metto il cuore E poi qui c'è il tossino con uno mastardo Questa qua sono sbaglio, è tranquilla infatti E poi quella dopo no invece Perché scontina Poi è una da Fagiano e poi c'è Questo qua che bisogna frenare, prendere la larga all'inizio e tagliarla dentro poi perché stringe E poi quell'altro dopo che stringe in chiusura Qua bisogna rammettare, prendere la larga all'inizio, prendere la larga all'inizio Qua bisogna rammettare, prendere la larga all'inizio Ragazzi, posso farci un po' di pazza? Sì Quargo Qua bisogna rammettare, coincidere la larga all'inizio Mi ha una 14, la prima di paese Qua bisogna rammettare Grazie a tutti.